Bentornati su questo server, Trash, con Valheim, 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 Valheim Ecco, metterò a cuocere due zampe di coccotrillo, no, ma prima ancora ci avrò un flint Oh no, devo andare a cuocere il flint Quante, quante frecce ci ho? 20 Allora facciamo così, ci portiamo pure queste 8 Depositiamo Facciamo il carico di Mangiare You are fully ready Already E niente, i materiali avevamo detto li mettiamo qua Questo 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 ce lo mettiamo, attualmente Selezioniamo questa Anzi, li mettiamo qui I materiali, andiamo detto, ci mettiamo questo 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 Questo, questi sono semi che noi ce li abbiamo Da qualche parte, intendo Tipo qui Ci sono i semi, li possiamo lasciare lì E questo Qui lo organizziamo anche Per le rocce E' questo Beh, direi che Siamo belli carichi E la zappa la possiamo anche lasciare In effetti Possiamo mettere Ok Beh, io direi che Vediamo un attimino se riusciamo No Quasi è troppo lento Ok, ora Ah Abbiamo detto Abbiamo detto Vediamo se Perfetto Ci abbiamo detto Dobbiamo andare a fare il boss Mi sembra Ci vogliano Soltanto Due teste Di cervo Vediamo un attimino Altare Quindi Andiamo giusti per di qui Andiamo a provare Il boss Non ho bene idea Di cosa aspettarmi Questo è il mio primo boss Ma penso che si debba fare Perché Altrimenti Non ti sbloccano Non ti sbloccano Nulla Certo che è fuori luogo Durante i combattimenti E il sassofono Malissimo Ok Ok Ho ricaricato Ma guarda Ma guarda sto bastardo Io l'ho tirato in vaccia Affanculo Cinque You make the sacrifice Ok Questo è il primo boss Ah Ho letto prima Che si faccia Se è così Non pensavo fosse Così semplice Proccato No Perché si ricarica E' Mi sa che sono Ah è fagilissimo 28 Ah ok se non carico gli tolgo poco Hake tier Devo ricaricarmi No Vediamo un po' di frecce Ah ok Le frecce Infiammabili funzionano meglio Funzionano molto meglio Le frecce infiammabili Beh anche Sta la spia 27 Ho preso in faccia E' un po' Un po' più action Ho imparato anche a rollarmela Wow Fanculo Rendono sui sacri e stoni con il vostro truffo seguito e offre il salito per rendere il Dio riuscire a te ok dobbiamo far sorridere gli dei e corriamo con un po' di più di di stamina cazzo pensavo di averlo preso in testa questa cosa qua però la resina potrebbe tornarmi utile quindi perchè no ci dovesse mai essere la cava del flint cioè dovrei provare questa pia fuoco aspetta però ma il flint l'ultimo di si il 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 No, no, no. Vabbè, è poca roba. Allora. Allora, andiamo a vedere qual è il sacrificio con la testa che ci danno. Stiamo andando giusti? Non so se Flint riesce qua. Se non riesce è un macellaio. Proprio un macello, macello. Mi sa che non riesce, sapete? E da questa parte mi sa che non ci stavo proprio, non ce l'ho proprio passato. Però visto che ci troviamo... Visto che un po' ci troviamo... Prima di passare a raccogliere... Il dio... O perlomeno il dono del dio... Del teo. Si dice dio. Ma no, no. Però qua è tanta flint. Tanta flint. Buono. Sicuramente io non so il metodo per farne droppare di più, eh. Perché ci starà qualche metodo. Figurati. Io dovrei andare da quel lato, però. Non siamo sicuri che devo andare da quel lato. Ah, no. Devo andare di qui. Anche se qui... E' un continuo. Ok, basta. Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Andiamo a andare dritto per di qui. Ho capito dove sono. Beh, in effetti... Questa prima zona dovrebbe essere... Densa densa di flint. Beh. Dai, che qua ci tocca pure... Il mio cugino di quattro anni. Buono. Ok. Mi sembra di fare qui. Sì, è un po' di più. Ok, ok. Il mio cugino di quattro anni è una nuova. Ci sono un po' di più. Ok. Il mio cugino di quattro anni è una nuova. Ok. Grazie Usa In tempi di bisogno Il tuo prossimo target è una foresta nera Per esplorare la terra E coprire la traccia perdita Oh ok Tutto ciò Scusa come si attiva Il potere Oh ma c'è l'autocorsa C'è l'autocorsa Fermi It's morto Ok E l'altro porco Ok ma quindi Come faccio ad attivare Devo vedere Devo vedere tra i settings Ah Usa F Ah 20 minuti Bene Bene Beh Interessante sicuramente Ah Ahia Molto interessante Devo vedere Ok Ok Printed arrow Ok Upgrade Ok E Dobbiamo vedere se abbiamo Oh La pickaxe Ok Upgrade Ah Questa non si può Upgradare Quindi possiamo Quindi possiamo minare adesso Allora Allora Questo possiamo mettere qua Dobbiamo Purtroppo Purtroppo creare Dobbiamo creare Purtroppamente Le fridge Le fridge Le fridge Dove 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 sono le ale Dalla fridge Le ali Oh Questo Ok Ok Venti Quaranta Ok 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 Sette Andiamo un po' Posso costruire qualcosa No Si può fare un secco Di cazzo Boh Finisco Qui E poi mi metto a riposare Così Beh Beh Ah Vabbè Vabbè Quello diventerà carbone Intanto dormo Vediamo un po' che succede Così si fa giorno E andiamo nella black forest E andiamo a scoprire Vari pericoli Che sono Si celano La black forest Ah Questo Ah Questo Allora Questo Allora Qui Buttiamo dentro questo Allora Questo Lo dispensiamo qui Questi qua eh Dobbiamo per forza buttare Tanto fuori sta impazzando Ok Le penne Non le portiamo Idem flint In penne Questa pure Non la portiamo Portiamo soltanto le Le frecce Ah E la picca Boh Fammi provare la picca Che succederà Ah Stone Quindi questa Tira Rock Eh Eh però Si spezzano bene Le rocce Quindi le stone Non sono più un problema Un problema Pur uccidendo Ok Ok Quindi Andata Abbastanza Bene Porca Traio Ah Ok niente Non riparo Ok 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 Siamo bagnati Ok 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 Allora ragazzi Allora ragazzi Si va per la Black forest Andiamo a vedere C'è qualche cosa Però Però Sono diventato bravo eh Mamma Cammà Ma è importante andare a caccia Sono consapevole Mi sa se sto tizio si può rifare quante volte vogliamo Questo fatto dell'acqua mi sta devastando eh Oppure c'ho tutta manetta per ricaricarmi Meno 60 Se no Normalmente tendrei con pianissimo tra le altre cose Allora di qua io penso di aver raccolto praticamente tutti i flint vediamo così se rispawnano Non potevo tirare Ma i mostri Ok Ma guarda Oh, non moriva, no Ok Eh, se fossi riuscito Se sarei riuscito Quindi io vado lì Soltanto per Per minare da quello che Da quello che dice Il tizio Qui c'è una casa Però è vuota Non c'è niente Uh Non mi sono mai spinto Da ste parti Mi sa Allora Allora Io qui mi potrei mettere Visto qui che sta in mezzo al nulla Il simboletto Allora Casa base Camp 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 Nul Pre Black Allora Sapete che faccio io qua Vediamo se posso fare il letto Allora Allora Mi Ma mancano dieci No, più che altro è che Mi scoccia fortissimo andare 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 in giro Con sta cazzo Di pioggia Ok 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 Non puoi dormire Non puoi dormire Nel momento Perché non posso Vaffanculo Vaffanculo Ma questi sono nuovi Ok 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 Voi 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 Ok Quindi sono nella Nella Black forest Ancora tutto bagnato Le altre cose Funghi Non ho ben capito Che cazzo Mi si armano Non ho ben capito Ok Ok Siamo arrivati nella Black forest Vediamo Qui non c'erano mai Passati Qui non c'erano mai Ma quindi La black forest È di là Ah ok Quello ti dice La zona in cui sto Adesso sto Vaffanculo Della black forest Eh se non vedo però Devo imparare a bloccare Questi Oh sono fiori nuovi Oh merda Non vedo Niente No 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 vai Vabbè Sono morto troppo Di là Però Adesso cominciamo A lottare con Quelli forti Chissà se riesco a risalire da qua Ok con un saltino Ok con un saltino Deve Deve essere Covered Ma Ma le devo mettere Però Aspetta Vedo niente Merda Oh che cazzo è successo No No Cristina Verena Qua ci sono delle bacche E' blu Questa Non dico tanto ma Ok Ok Dove sta? Vedo un cazzo Annaccia quel E' qua eh Ah quindi Quindi c'è o non c'è sto sistema di combat Questa La 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 Questa che cazzo è? Questa che cazzo è? Andando per di qua ho visto Del diruderi E' 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 Beh diciamo che la foresta nera si prospetta una bella avventura E' Con questo bellissimo tramonte come sappiamo non indica nulla di buono se non trovo un rudere Vai Ok Donna La lagga pure Eh Oh ma questo è un dungeon Un dungeon Maggia quella puttana Ma guarda sto bastardo Guarda quella merda Ma guarda sto bastardo Ok Ok Ah Questo è un dungeon Vale la pena segnarlo Dungeon Beh Praticamente qui una casa non arriva Aspetta quello è un rudere Non era un rudere Non era un rudere Sono delle rocce No no devo andarmene Ok Che cazzo è quello? Che sono sti robbi Che sono sti robbi? Tistol Vabbè Madonna che cazzo di evitata ma va Allora 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 Ok Ok Qua la situazione è È delicata So che mi stanno su Porca Trove Mi ha picciato fuoco Ok Ok Sono il re della black Noi ci vediamo al prossimo episodio Figo Allora 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 Allora